di marco benazzi forme geometriche nel buio che ci accompagna voce di lorenzo pieri capitolo quarantaduesimo quando devo andare a roma per motivi non strettamente legati al lavoro preferisco andarci con l'autobus si parte prima dell'alba per arrivare verso le 10 e 30 alla stazione tiburtina è un viaggio che mi riporta alla mente quello descritto magnificamente da ken kesey in the further inquiry dove nel 1964 kesey e i merry pranksters partirono a bordo di un vecchio scuolabus chiamato further fuggendo dal quotidiano aiutati da acid tests cioè festini dove i partecipanti assumevano droghe anche senza consapevolezza affinché kesey potesse studiarne gli effetti naturalmente sull'autolinea per roma quel tipo di viaggio è solamente di tipo mentale ma al termine mi resta sempre tantissimo materiale umano da utilizzare l'ultima volta che salì su quel torpedone risale ad un paio di mesi fa in occasione di un'interessante mostra a cine città mi sedetti al posto numero 20 e sprofondai nell'immediatezza in un sonno profondo come il senso di scoramento che aleggiava su di me quando riprese i sensi trovai al mio fianco un ragazzo di chiare origini orientali che parlava con una inflessione dialettale paragonabile a quella di gino cervi teneva stretta tra le mani una sorta di urna cineraria di terracotta laccata e dipinta con colori molto accesi da ottimo conoscitore di anime in pena cominciai a raccontargli parte della mia vita romanzata con la speranza di avere in cambio uno spicchio della sua reale mi raccontò che suo nonno materno henry fong aveva chiesto espressamente a lui di occuparsi della dispersione delle sue ceneri all'interno del cimitero acattolico di roma voleva che venissero gettate all'ombra della piramide di caio cestio fra pini cipressi mirti e allori rose selvatiche e fiammeggianti camellie nonno fong era stato il filosofo di riferimento dell'intera comunità grande conoscitore del pensiero di lao zi e come lui non amava viaggiare al punto che questa emblematica frase del maestro divenne il suo credo non uscire dalla porta e conoscere il mondo non stare alla finestra e vedere tutto il cielo molto lontano si va molto poco si sa perciò il saggio non viaggia eppure conosce non guarda eppure loda non agisce eppure compie tutta questa storia era talmente affascinante e dal contempo assurda che non potevo non vederne la fine decisi allora di scortare il ragazzo al protestant cemetery e di assistere alla cerimonia giunti in columi alla meta ci avviamo a passo spedito verso il luogo di culto all'ingresso versammo come d'uso una piccola donazione che utilizzeranno per il mantenimento e ci portammo verso il lato prefissato dal caro estinto prima di aprire l'urna cineraria cercai di improvvisare un discorso in memoria di nonno fong mettendo in evidenza la sua grande anima ma il ragazzo mi corresse impietosamente sostenendo che secondo il taoismo l'uomo non è un sé unico ma è costituito da sé differenti da coscienze inconsce differenti quindi bisogna parlare di anime al plurale c'è quella del cuore shen del polmone po del fegato un della milza i e del rene zi che possono essere considerati corrispondenti agli elementi della tradizione occidentale poi c'è lo spirito degli antenati ying l'energia vitale chi è il vero spirito shen da quel giorno quando penso ad un corpo considero sempre la possibilità che possa contenere molteplici anime e e e e e e